Con Selusio che va via, visto Romano, Selusio apre il gioco per il destro che finisce in porta per il vantaggio della Feldieboli, bravissimo, Trentin appena entrato a sbloccare la partita. Tutto nasce da una partenza secondo me fatta molto bene con i tempi giusti, dei tre che hanno girato palla laterale che ha preso il posto del centrale, il centrale ha incrociato e lì la prima linea della came si è fatta trovare molto impreparata. Poi è stato molto bravo Selusio ad andare a raccadere subito il centro che è la parte più pericolosa per poi scaricare la palla a Trentin altrettanto bravo a calciare di prima perché se qua si avesse stoppato ovviamente sarebbe ritornato il difensore della came invece lui ha calciato di prima levando anche un po' quell'attimo all'Ollo Pietrangelo.